Allora io sono Marcus Grannelli, signore e signori bentornati nella Spacecraft Guardate qua Ho spaccato Tutto Quantissimo Tutto, 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 tutto Non c'è più niente di niente Tranne qualche cavo Qualche cosa che mi rimasta, ma chi se ne frega della musica Adesso siamo abbastanza benestanti E laggiù ovviamente c'è la farba di Bob Che quella rimane lì, effettivamente, ora che ci penso Prima di farvi vedere Le così da belle, le così da interessanti ragazzi Ci ho passato una notte, sei ore Quando uno dice che è facile fare i gameplay Non dovrebbe generalizzare Perché magari è facile fare un gameplay Però fare questo tipo di gameplay Magari non è facile, magari non sai come funziona quell'oggetto E dici devi un po' provare in creativa Quindi già butti, ne so, un'ora di tempo E un'ora di tempo, quando uno lavora È un lavoro Ma qui, ma qui, ma qui, signori Eh, signori, ci ho buttato tipo 12 ore Perché sono stato svegliato tutta la notte Allora, qui c'è l'energia Ho finito le spade, maledizione Uh, quante cose di ossigeno Quanti ectoplasmi Perché c'è questa? Non me l'aspettavo Allora, visto che ci siamo Noi facciamo Uh, grazie Una torcia Buono, buono Facciamo così Facciamo così Eeeh Di mezzo era il cesto Ci mettiamo la numero Non mi ricordo mai qual è, ragazzi È la 2? No, è la 4 È la 4, è la 4 È la 4, vero? Vediamo? Sì, è la 4 Bam, 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 bam Bam, 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 bam E ci abbiamo buttato tutto dentro queste scrifrignacce Un sacco di capozzie Forse quella lì ce l'ho messa io Forse, forse, dico forse Ci servirebbe delle spade di diamante Effettivamente, magari faccio un circolto magico Però Ragazzotti Guardate qua, che cosa bellissima Insomma, di qua abbiamo Queste qui le posso riprendere Quindi le buttiamo via Queste ci servono Abbiamo tolto tutto Ho tolto il costo della chemical Vabbè, casa vecchia Il costo della chemical Questo qui l'ho lasciato perché era ancora un prototipo E di là Signore e signori, adesso andiamo a vedere La casetta Spero che vi piaccia Ci sono ovviamente delle rifiniture da fare Io non so costruire Quindi però spero davvero Che vi piaccia Questa è il nostro La zona, quella neutra Perché se questo si apre Mi esce l'ossigeno Sì, l'ho ossigenato tutto quanto Adesso ve lo faccio vedere Quindi che faccio io? Io entro da qua Ok, quello dietro di me si chiude Questo si apre E lì c'è, si tiene l'ossigeno Quindi questa zona È Respirazzile Vedete? 1.600 rimane stabile Allora L'ingresso Alla dereccia Abbiamo Non ho idea di quanti Qui rimettiamo la nei Di quanti di questi Di Oxygen Collector Un botto di foglie Considerate che questo è l'ultimo E prende 650 Quello, il primo prende 800 E un sacco di Oxygen Sealers Che sventagliano In giro per la casa Ed è tutta chiusa Quindi Fortunatamente grazie ai transcriver Adesso posso portare l'ossigeno Senza dover fare blocchi Che escono cose E cose bruttissime Di qua faremo Probabilmente oggi Un upgrade della fabbrica Di cose Che io qui l'ho spostata Ma è povera È davvero povera Voglio fare qualcosa di più grande Questo teletrasporto Lo vediamo dopo Qui c'è la parete Dei teletrasporti Della RF Tools Quindi abbiamo Marte Venere La stazione spaziale Di qua altre due entratine Poi decideremo Che cazzo ci facciamo E qui c'è L'Applied Logistics Con tutte le nostre cosine Ah Ho fatto un'altra di questi Perché qui era pieno Ci ho buttato le 16k Perché ce l'avevo Qui ci finisce dentro Tutta la roba La nostra robetta Ed è bellissima Qua sotto Oh scendi Abbiamo Uno Dei tre Per adesso Generatori di energia Ovvero Quelli classici Vi ricordate I zero point ex actor Vediamo se mi fanno danno Non mi fanno danno Perché non mi fanno danno Ah Perché sto scendendo Batteria in È giusto Perché Ah Aiuto help Ah ok ok Mi fanno danno Mi fanno danno Stanno prendendo l'energia Li ho fatti un po' di più Sono se non sbaglio 10 Quindi fanno 640 RFL1 E Qua dietro Usiamo questa qui C'è questa batteria Ho sommato tutte le bank che avevamo Per fare quelle da 25 mila 25 milioni Quindi qui ci abbiamo L'entrata E qui ci abbiamo l'uscita Questa si chiama Batteria in Quindi tutti i generatori portano qui E questa è batteria out Ovvero Dove mi serve Io uso quella là È carina Perché spunta dal soffitto Mi piace E a parte quello L'unica altra cosa Che mi resta di farvi vedere È questo teletrasportino Qui Spock Energia Anzi no Così così Biripì Biripì ho detto Molto bene Quest'altra stanza Che è sotto Di una quarantina Di blocchi Ho riportato I due generatori Di steam Con la lava Ve li ricordazze Sono praticamente Identici Non volevo Reopere qua sotto Scusa Sono identici Ma più compatti L'ho proprio Pensata in creativa Qui c'è La cobblestone La lava Qui sotto c'è L'acqua Che non si vede Ma ci è Ecco la last Come potete vedendo Qui produce steam Guardate quanti Hit exchanger Lo steam va di qua E ho fatto Le turbine Con il Vibrant Che è bellissimo Produce 500 Adesso questo produce 1000 Il picco massimo È stato 2000 Perché puzza Probabilmente vi servono Più cosi Più fregni Di qua è Assolutamente Identico Però non capisco perché 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 Non ci abbia Perché stia Che cosa sto a Consumando Il nostro amico Non lo so Di qua metteremo Altri generatori Absolutamente Teletrasporto Immediato Eccoci È bellissimo Mi piace un sacco Sta stasa Sta stasa Ma come parlo Non scende Anzi sale Anzi scende Anzi sale E spiccate Ma buo Ragazzotti Questo è quanto Questa è la nostra Nuova casetta Spero che vi piaccia Se ci avete dei consigli estetici Datemeli Perché questo è il massimo Che io sono in grado di fare Quindi che cazzo ne so Che ne so Mettite il blu Oppure blu Non lo so Fate Fate mobis Davvero Però Io direi di andare A prendere Eccolo qua Il solar panel generator Solar Ce ne dovrei avere Questi altri Della Advanced Della Galacticraft Prendiamo i Conduct Ne ho sette Ne ho sette Forse non ci bastano Quindi andiamo Nel nostro terminale Applettoso Perché ho messo Un po' di Vibrant Dentro Quindi Conduct Possiamo farceli Abbastanza veloce Un transcriver Ne ho fatti Abbastanzina E volevo Insieme a voi Fare un goal C'era un goal Da qualche parte Perché da un po' che non vedo Non vedo le quest Eccolo qui L'artbook Anche un po' questoso Piccolo 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 Basi Giazzecca Nungamba Vediamo un po' Questo qui Era quello E va bene Perché devo fare tutto il lavoro L'abbiamo fatto Devo vedere assolutamente Ah no Devo fare questo Questo me lo so scordato E devo fare anche il router Che è di una mod Che è la router reborn Che è Prendete la factorization nuova Qui ci mancano queste cosine More power More power Eccola qua More power Questo qui vuole un livello Un solar panel E livello 2 Ci da l'iridium E delle reward bag Per farlo Solar panel C'è anche quello L'elettrica ledge Non so che cazzo sia Davvero non lo so Lo ignoro fortissimamente Vedete non si può craftare Possiamo upgradare Soltanto questo Papapim Qui servono le stelle Per farlo Va bene Ok d'accordo Allora ci servono I block of dash Quanti ce ne fai? 31 Stiamo spregando La metà del dash Che abbiamo È Absurdo Però Non qua Non tutta Proprio Proprio tutta la metà Dai Un terzo E Prendiamone una Vediamo che ci ha dato Basic Ti odio Profondamente Uno zombie Grazie Uh vediamo che ci facciamo Con l'iridio Iridium 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 Eccolo qua Ci si fa l'armatura di iridium Che sinceramente Pippi Eppure si fa Il veleno per Cusco Cusco il suo è veleno No si fa questa qua Che diventa Questa qui Che Ce la fa diventare Solo al panel Porca puttana Porca puttana Questa Già nella 16 Quindi È tipo Un po' La merda E vediamo se si sblocca Uuuuh Che ci dai Il Mercury Iridium Stessa Stessa cosa Scusa Che Quello che mi hai dato prima Mortacci The Pepper Heavy duty Iridium Iridium Dobbiamo andare su Mercurio Appazzare Un cuore Ragazzi Per forza Di cose E allora Vediamo se ci abbiamo Una bank No Perché volevo tenermene Prendermene una Anzi Di quelle stupidissimissimissimissimissimissime Non quella da 5 mila Non ho fatto quella 25 milioni Ho fatto quella Da 5 mila Da 5 milioni Scusate Questa Non me la fa fare 1 2 3 E 4 Perfetto Ce l'abbiamo Facciamo questa Benchina qui E andiamo A Dove andiamo Dove andiamo Dove andiamo Orbitale E mi hanno detto Che consuma Che produce di più Però Però Effettivamente Io non ho La Chamber Come si chiama Eccola qua Dove la metto questa Non lo so Me la porto appresso Marte Stazione Eccola qua Andiamo sulla stazione Piglianculo Ok È notte Perfetto Tu 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 Andiamo a dormire Tu 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 E adesso siamo davvero davvero molto attenti Guardate la lunga com'è Ficcione Siamo molto attenti Stavo dicendo Sì Molto 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 attenti Chissà se posso fare Questo giochino qua Che ne so Metterlo tipo qui Si apre Sembrerebbe di sì No 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 Fermati 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 Oddio ragazzi Sta cosa è assurda Scendi giù Scendi giù Ti prego Scendi giù Non scendere giù Così tanto Aiuto 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 Help Help Ok Tocca per terra Non saltare mai più ti prego D'accordo Non saltare Ti voglio bene non saltare Ok Allora Potremmo metterli Qui Fammi vedere un attimo se Per caso Ok L'uscita è sempre lì Quindi ci sta Facciamo così Perfetto Facciamo così Nope Li mettiamo Qui posso metterlo No Ma se li mettessi Staccazzi Vediamo un po' Uno Due No giusto Due E tre Perfetto Guardate che bello Quanto producono 35 Ma neanche mi hanno coglionato I miei amici I miei amici Mi hanno coglionatissimo Può darsi Non lo so Vediamo Questo quanto produce 16 RF Suttica comunque Sono buono No 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 Risiediti Risiediti Siediti Dai Merda Se chassi Che so Paffi Beccamomma Taffrata Taff No 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 Ragazzi È terribile Tutto questo Davvero Mette a Angoscia Ok Facciamogli Fassare Qua sotto Sotto, qua sotto, e qua sotto, ehi, ok, scende, oh, ok, siamo salvi, scende, qui non vuole mettersi perché c'è il coso dove sponi, giustamente, vediamo quanta energia ci danno, ehi, un'auto, ah no, giustamente stavano in accumulo, quindi dobbiamo aspettare che scemi, sta scemendo, ok. Eeeh, 183, è un po' una merda, però ragazzi, che vi tengo da dire, è sempre meglio che niente, no? Quindi lo facciamo così, questa qui la mettiamo in exit, molto bene, extract, facciamo così, e gli diciamo, non batteria out, ma batteria manda, inzende, ed ecco qua, che questa qui viene risucchiata, perfetto. Abbiamo anche un'altra fonte di energizer, e visto che ci sto, faccio così, 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 perché se salto finisce, finisce tutto molto male, facciamo, no, Marcus Krohn, ok, perfetto. Teletrasporto! Ah, ma l'ho ciancato, non l'ho ciancato, senza ciancare le cose, ragazzotti belli. Eeeh, come si chiama? Dimensional? Eccola qua. Olleh. No Marte, ma stazione. Ritorniamo un attimo su stazione, avete visto che cazzo di barba mi sta diventando? Sto davvero iniziando a preoccuparmi. Mettiamo i cianchetti, quindi va bene anche qui, e la facciamo di 3x3, perfetto. Chi se ne frega della musica, ragazzi. E chi se ne frega della musica? Ma come cazzo, ti toglie uno, si c'ha? Ah, ah, paparapapapara. Uh, ma questo, fermo! Questo, questo, questo è totalmente sbagliato, batteria out, receive. Mamma mia, l'avevo dimenticato perché ho cambiato le frequenze, e quindi questo qui poteva rimanere senza energia, ma attaccavo al cazzo e tiravo forte, non tornavo più indietro. A meno di non accumularla col pannelletto solare, ma vabbè. Allora, abbiamo bisogno degli diti, abbiamo detto. Quello, quindi è tempo ormai di pasteggiare, di cavoli e dire. Su, venite amiche, andiamo. Non mi ricordo, di cavoli e dire. Non ci sono i marker? Mi sa che devo andare su Marti, sapete. Devo andare su Marte Amici belli Devo andare su Marte, 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 Marte Eccolo qua, ok Stiamo andandolo Stiamo andandolo, apprendolo Stiamo apprendolo, andandolo Eccolo lì il mio corrino Ed ecco lì anche la mia dimensione al chest Prendiamo il cuorri Prendiamo il marker Ehi là, come stiamo, eh? Tutto bene? Agagagaga Ok, non mi ricordo perché a destra era fatto Quindi, a parte questo marker qui Ce ne dovrei avere un altro Di qua E se mi conosco bene Non è qui ma è là sotto, perché so stronzo Eccolo là Ragazzotti, adesso ho dato un'occhiata all'orario E ho visto che effettivamente ci siamo dilungati per troppo tempo Nella prossima puntata E tanto spero che vi piaccia la casa Perché ci ho messo davvero un tacco di bucio di culo per farlo Quindi, lo spero Noto soltanto adesso che mi sono morti I due lumaconi Vi ricordate i due lumaconi? Nella prossima puntata andiamo a pizzare il cuorri su mercurio In modo da ottenere l'iridium E fare tutte quelle cosine che ancora non ci sono permesse E ampliamo la fabbrica per produrre un botto di materiali Perché davvero ne voglio un botto E prima o poi dovremo fare uno stargate Ragazzotti, bella per voi! Per voi! Per voi!